Padre Pio per Carlo, Padre Pio veramente è stato molto presente nella nostra vita. Io posso vantare di essere stata benedetta il giorno che sono nata, perché mia zia era figlia spirituale di Padre Pio, e Padre Pio incontrò mia zia proprio quel giorno che ero nata, e mia zia gli chiese una preghiera per me. E Padre Pio disse, la benedico, la benedico, e in effetti questa benedizione è arrivata, perché il fatto di aver avuto Carlo lo considero una benedizione. E Carlo è sempre stato molto attratto da Padre Pio, perché avendo appunto la zia che ci raccontava di Padre Pio, e poi neanche a farlo apposta, noi siamo, mio padre era il dirigionario di Salerno, e abbiamo proprio, eravamo amici tramite il fratello di mio papà, che è lo zio Lucio, di Consiglia De Martino, che è una delle miracolate di Padre Pio, con cui mi sento spesso, che pur lei, insomma, lo vedo un po' un piccolo segno. E poi mi ricordo un episodio bello, che, diciamo, Carlo aveva la febbre altissima, c'era una febbre tipo a 39,5, e io ero andata a letto, non me ne era accorta, e durante la notte mi sogno Padre Pio, mi dice, svegliati che tuo figlio sta male. Io sono andata lì, sono andata subito da Carlo, visto che in effetti aveva la febbre forte, no? E quindi Padre Pio ci ha dato sempre tanti segni, ecco. Soprattutto Carlo, questa devozione che aveva per Padre Pio, era perché, è questa devozione eucaristica di Padre Pio, no? Quando faceva la messa, che stava così in meditazione, come se stesse sul Calvario, ma veramente lui viveva il Calvario. Ecco, Carlo l'aveva tanto attratto, tanto colpito questo fatto, ecco. Poi anche il fatto degli angeli custodi di Padre Pio, perché Carlo era molto devoto al suo angelo custode. Tra l'altro lui diceva che si chiamava Gabriele. E il fatto che Padre Pio avesse questo colloquio continuo con gli angeli custodi, anche questa devozione alle anime del purgatorio, anche Carlo aveva visto, aveva avuto qualche cosa con le anime del purgatorio che chiedevano preghiere, no? E quindi anche il fatto che Padre Pio, lui si è ispirato a Padre Pio, offriva le messe, ovviamente Carlo non era sacerdote, però offriva le messe lo stesso come fedele e anche le preghiere. Soprattutto quando eravamo a Sisi, gli piaceva spesso andare a una porziuncola dove c'è l'indulgenza plenaria e applicarlo appunto a queste anime del purgatorio, anche quelle più dimenticate. E poi anche un'altra cosa di Padre Pio che sicuramente Carlo aveva proprio a cuore era il fatto che Padre Pio avesse questa devozione per San Michele Arcangelo, perché San Michele Arcangelo, Carlo era devotissimo e spesso siamo andati lì al santuario del Monte Sant'Angelo e mi ricordo che ci aveva portato un tassista che aveva conosciuto Padre Pio di San Giovanni Rotondo e questo tassista ci raccontava che Padre Pio aveva, quando aveva dei casi disperati, che lui non poteva fare niente, mandava le persone a San Giovanni, a Monte Sant'Angelo, appunto nella grotta dell'Arcangelo San Michele. Ecco, e anche questo l'aveva tanto colpito, no? Questo legame con Padre Pio, con San Michele, San Francesco, che sono i santi di Carlo, poi ecco. Quindi sicuramente, e poi soprattutto la Madonna, ecco, la Madonna che Padre Pio, la Madonna di Fatima soprattutto, che Padre Pio venerava, quella di Pompei, no? Mi ricordo che una volta eravamo stati a Pompei, venivamo proprio da San Giovanni Rotondo con questo tassista che ci portò e mentre venivamo, eravamo proprio dentro Pompei, uno ha superato nella corsia sbagliata, ci è venuto addosso. Io poco prima avevo detto a Carlo, mettiti la cintura, mi raccomando, di sicurezza, perché... E quindi avevamo questo impatto, no? Con questa macchina, però non ci siamo fatti niente. Poi abbiamo preso le testimonianze e tutto quanto per il tassista che si era un po' rovinato la macchina. E però poi Carlo, vi ricordo che andammo lì alla chiesa di Padre Pio e poi ci raccontarono che anche Padre Pio, che andò a Pompei, aveva avuto un sacco di problemi quando era andato al santuario di Pompei, di cui era devoto anche Padre Pio. Quindi tanti piccoli legami che ci uniscono. Certamente ce lo sentiamo molto vicino. Poi non è casuale che Carlo stia lì, proprio al santuario della spogliazione, dove ci sono i Cappuccini, che sono il rettore, insomma. Quindi questo, secondo me, è anche un segno, no? Un segno. Poi, quando Carlo era in vita, avevamo anche dei sacerdoti Cappuccini, tra cui Padre Giulio Savoldi, che era il vice postulatore di Fran Cecilio Cortinovis, di cui è aperta la causa di beatificazione, legato lì alla mensa dei poveri a Milano, in Biale Piave. Ecco, Carlo spesso andava a trovare questo Padre Giulio, che è stato anche uno dei testimoni e gli regalava i soldi, tutti i soldini, salvatanai, c'era una pazienza questo Padre Giulio, perché contava tutti questi spiccioli, questi soldini, perché Carlo era piccolo, però aveva ecco una vera relazione grande proprio, gli piacevano i Cappuccini, con quelle loro barbe, così. E quindi, niente, questo è un po' il mio ricordo di Carlo con Padre Pio. Grazie a tutti.